Parte il calcio di punizione di Kivu, un colpo di testa, il gol dell'Inter, il gol di Suasso. Il lacrosse poi tentato, ancora Pazzini, Gutmanovic e la Fiorentina in vantaggio. Non provare a tentare, vorrei solamente poter respirare, non credevo toccasse a me, riscuoti l'assicurazione. Palla lunga per Di Natale, il contropiede, va Di Natale, può andare, porta vuoto Di Natale, attenzione, Di Natale ed è rete! 3 a 1 per l'Udinese, Totò Di Natale. Non è stata sfruttata, Cassani rientra, fa fuori nuovo il top passo di Cassani, bellissimo, ancora dentro per Jankovic, non c'è fuorigioco! Bosco, Jankovic, Palermo 2, Cagliari 0! Quest'altro lato, attenzione, Cassano cerca lo spunto, 3 su di lui, Cassano, aria di rigore, mette il pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Maggio! Ancora Maggio è nel gol della Sampdoria! Sampdoria in vantaggio al minuto 42, stavolta Cristian Maggio non ha sbagliato! Ai dottori non sanno che fare E allora spingimi, nuovi stimoli, tirami Totò per Di Natale, ben abbottato, posizione regolare, la testa! Raddoppio! Totò, Di Natale! E allora leccami, nuovi stimoli, grazie a me, nuovi stimoli, regalami nuovi stimoli Fai Vargas! È il pareggio del Catania! Ha segnato lui! Grazie a me, grazie a me, regalami nuovi stimoli Modesto, palo di Nicamoruzzo, ancora Modesto, pallone sul sinistro, calciato di Varete! Rete, grandissimo gol di Modesto, alla mezz'ora esatta, un bolide all'incrocio dei panni Allora parte del Piero, la conclusione, pallone in rete! La Juventus è in vantaggio, Alex Del Piero al quarantaquattresimo, splendido calcio di punizione Stimoli, insegnami nuovi stimoli, regalami nuovi stimoli Mutu, Mutu ancora, limite dell'area, Adria Mutu! E la Fiorentina torna in vantaggio! Stimoli, Milan, regalami nuovi stimoli S kettleia, come s'e aan di canastorno a l'area ! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!